bene salve ragazzi e benvenuti alla terza puntata di questo minicorso su Lumion abbiamo visto già diverse cose di questo potente software adesso vediamo un poco ancora in questo pannello in porta che cosa possiamo fare oltre ad occuparci dei materiali che poi dopo vedremo in una successiva lezione vediamo ancora dal pannello, da questo pannello che cosa è possibile fare beh molte volte capita magari che abbiamo importato il modello ma ci siamo ricordati che essendo Lumion un programma che non consente la modifica degli elementi importati ma non legge come un oggetto punto di libreria qualche volta può capitarci o ho dimenticato di realizzare quella cosa in quel punto e di volerla integrare nel progetto beh la cosa è molto semplice richiamoci ad esempio sul progetto Master io ho usato Archicad come vi ho detto ma voi potete utilizzare una qualsiasi altra applicazione magari voglio realizzare un'ulteriore base per una sorta di piazzale allora io mi metto in questi punti magari clicco vado nella finestra in 3d e ho aggiunto diciamo così un corpo al mio progetto in questo caso la faccio graficamente non è importante ai fini di quello che voglio io adesso mostrarvi ho aggiunto questo pezzo allora cosa importante adesso quando io vado a risalvare il file salva come in 3ds vedete all'interno del mio vecchio andrò a sovrapporre il mio vecchio file perché l'oggetto di libreria ogni volta ogni qual volta viene caricato legge questo file quindi lo vado a salvare e lo vado a sovrapporre bene quindi ritorno in Lumion vedete che tra le varie icone qua giù col modello selezionato posso scegliere quest'icona qui ricarica tutti i modelli selezionati adesso cliccando sopra vedete che è apparsa la piazzola che io sono andato a disegnare all'interno di Archicad questa era una precisazione doverosa perché molte volte è un qualcosa che ci capita tantissime volte magari voglio disegnare una recinzione magari voglio disegnare una fontana magari voglio utilizzare il mio software CAD preferito per integrare automaticamente in scala il modello che ho già esportato lo posso fare questo lo posso fare anche quando ho già inserito oggetti quando il mio progetto è già definito lo posso comunque fare sempre beh anche per questa precisazione penso sia tutto Giovanni Messina vi da appuntamento alla prossima lezione su Lumion in pillole